L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare della didattica a distanza che di fatto si applica oggi a tutte le scuole di ogni ordine grado in Abruzzo con l'ordinanza regionale firmata dal governatore Marsilio. Dunque scuole tutte chiuse ma restano aperte le scuole dell'infanzia. Una situazione su cui si sono pronunciati sindacati che si dicono perplessi su questa disparità e chiedono che si torni a verificare meglio la situazione della scuola che in questo momento dicono paga l'incompetenza, l'incapacità di un intero sistema. Sindacati che sono critici anche sulla campagna vaccinale anti covid nel mondo scolastico e chiedono ulteriori certezze e garanzie senza vaccini dicono non si può ritornare a scuola. Tra l'altro di queste ore è proprio la notizia che il governatore Marsilio ha scritto al ministro Speranza e al commissario Arcuri chiedendo di aumentare i numeri dei vaccini da destinare alle zone rosse dove circola la variante inglese e nello specifico si chiedono anche più vaccini da destinare anche agli studenti maggiorenni proprio per cercare di arginare il contagio. Ma insomma questa mattina si sono pronunciati dicevamo i sindacati del mondo della scuola per noi ci racconta tutto Antonella Micoliti che è in diretta. Antonella buongiorno a te. Buongiorno Anna buongiorno ai telespettatori della Tg8 parliamo di scuola perché da oggi vige l'ordinanza del presidente della giunta regionale Marsilio che impone in tutte le scuole della regione la didattica a distanza a eccezione delle scuole dell'infanzia. I sindacati sono preoccupati tanto che hanno scritto una nota congiunta chiedono un incontro al tavolo competente dicono si continua a navigare a vista perché restano irrisolte diverse criticità soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia che ribadiamolo resta aperta tranne che decisioni prese dai vari sindaci dai vari comuni. Vicino a me ho Carlo Frascari che parla a nome di tutti i sindacati dello Sdals Comsal Abruzzo. Le chiedo immediatamente quali sono le priorità da affrontare? Sì allora noi abbiamo fatto questa nota congiunta insomma a livello regionale di tutti i sindacati quindi condivisa e abbiamo anche chiesto il tavolo la riunione del tavolo sulla sicurezza perché abbiamo da porre alcune questioni. La prima e più importante in questo momento storico diciamo di quello che ha detto prima lei è la questione della scuola dell'infanzia cioè qui ci sono delle ordinanze di sindaci che hanno sopperito a quello che la regione non ha fatto cioè la chiusura totale delle scuole lasciando invece aperta la sezione cioè il settore della scuola dell'infanzia. Noi non siamo d'accordo perché a questo punto non si capisce perché lasciare solo un segmento anche se i bambini sono piccoli non significa che non siano il virus o non circola. Allora diciamo anche a evitare zone nelle nostre zone rosse insomma che ci siano scuole aperte scuole chiuse nell'intera regione va chiusa l'intero settore scolastico quindi a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Non è una cosa molto complessa io francamente non riusciamo a comprendere il perché di questa decisione. La seconda questione secondo me forse anche più importante è la questione delle vaccinazioni allora premesso che vorremmo maggiore trasparenza sulle procedure perché non si è capito bene quali siano le precedenze all'interno del settore della scuola perché la scuola ha bisogno di essere protetta sia negli alunni sia nel personale. Allora se e questa è una proposta che faremo al tavolo in maniera abbastanza decisa se non riusciamo a vaccinare l'intero personale o gran parte di esso le scuole non potranno essere riaperte in presenza non c'è niente da fare altrimenti ricominceremo con gli stessi problemi. Seconda questione gli insegnanti sono tutti uguali cioè nel senso se un insegnante di ruolo oppure è stato assunto con il cosiddetto organico covid oppure è stato assunto in supplenza vanno tutti inseriti nelle categorie a rischio e quindi vaccinati altrimenti ci troveremo di fronte a 20 25 15 per cento di persone che non sono vaccinate è comprensibile che il numero di vaccini in questo momento è ovvio sappiamo tutti non è sufficiente a fare una campagna vaccinale definitiva però noi speriamo che appena questo sia possibile comunque nel frattempo cominciando così dobbiamo vaccinare tutto il personale della scuola questa è la nostra più forte richiesta. Voi chiedete anche degli screening siete intervenuti in precedenza anche in merito al trasporto pubblico e lei è stato chiaro ha detto se non si procede con i vaccini per tutto il personale scolastico le scuole non devono riaprire in presenza? No perché altrimenti ricominciamo con lo stesso problema cioè dovremo poi richiudere dopo una settimana. Lei diceva dello screening ma io vi dico di più noi abbiamo chiesto già ormai un mese fa un monitoraggio un risultato di un monitoraggio sulle incidenza della malattia diciamo del covid all'interno delle scuole e quando diciamo screening fossero stati fatti allora bisogna chiarire questo noi entro diciamo una settimana dieci giorni avremmo potuto avere questi dati noi dati non ce li abbiamo perché pare che non si sa chi ce li debba dare. Grazie allora Carlo Frascari dello Snars Conf Salabruzzo che naturalmente ha parlato anche a nome delle altre categorie sindacali che hanno sottoscritto questo documento e hanno richiesto questo incontro al tavolo preposto incontro che immagino mi sarà accordato e poi ne riparleremo. È tutto Anna se non hai domande da studio io ti restituirei la linea e grazie all'operatore Andrea Berardinelli.